Usi dell'aceto di mele come trattamento di bellezza L'aceto di mele viene tradizionalmente elaborato attraverso la fermentazione degli zuccheri, del sidro o del succo di mela. Si caratterizza per la presenza di acido malico, il responsabile dell'odore così caratteristico di questo prodotto, nonché del suo valore. L'aceto di mele. Oggi vi vogliamo svelare alcuni degli usi di questo meraviglioso ingrediente per la vostra bellezza. Aceto di mele per i capelli. Questo ingrediente così economico e facile da trovare in vendita è uno dei migliori alleati per mantenere in salute il cuoio capelluto, visto che applicarlo aiuta a regolare il pH e inoltre previene ed elimina problemi come la forfora. Le sue proprietà aiutano a pulire i follicoli piliferi quando questi sono tappati e impediscono la normale crescita dei capelli. Che cosa bisogna fare? Diluite una tazza di aceto di mele in due tazze di acqua distillata e mettete la soluzione in uno spray. Poi lavate i capelli come d'abitudine dopo l'ultimo risciacquo spruzzate il miscuglio di acqua e aceto. Acne e macchie della pelle. L'aceto ha proprietà antibatteriche e alcune degli acidi che contiene aiutano a distruggere i depositi di grasso della pelle. Grazie a queste proprietà, è l'ideale per combattere il problema dell'acne e l'eccesso di grasso della pelle. Inoltre, ha un effetto sbiancante che può aiutarvi a ridurre le macchie della pelle. È importante utilizzarlo con molta precauzione, per non causare reazioni indesiderate. Come nel caso precedente, diluitelo in acqua e poi applicatelo nelle zone della pelle colpite dal problema. Previene l'invecchiamento e mantiene la pelle in salute. Questo potente ingrediente favorisce la regolazione del pH della pelle, aiutandoci a rimuovere le cellule morte e promuovendo una migliore circolazione. Queste proprietà rigenerano i tessuti della pelle, favoriscono l'eliminazione delle impurità e, grazie a tutto ciò, evitano l'invecchiamento prematuro, permettendo che la pelle sia sempre in salute. Per questo, l'unica cosa che dovrete fare è diluire un cucchiaio di aceto di mele in 5 di acqua e applicarlo sulla pelle. È l'ideale per curare piccole ferite e calmare la sensazione di prurito alla pelle. Per riuscirci dovrete soltanto aggiungere qualche goccia di aceto di mele nell'acqua della vasca da bagno oppure versarle nel vostro sapone liquido e mischiare. Le sue proprietà vi aiuteranno a prevenire possibili infezioni delle piccole ferite, e inoltre le aiuteranno a cicatrizzarsi più in fretta. L'aceto di mele è un ingrediente ricco di proprietà per la salute e la bellezza. Molte star hanno ammesso che il loro trucco per mantenersi in forma è bere a digiuno un cucchiaio di aceto di mele diluito in un bicchiere d'acqua. Non solo vi aiuterà a mantenere la linea, ma potrete sfruttare anche i suoi molteplici benefici per la salute. Attenzione, non bevete in nessun caso l'aceto di mele senza diluirlo, perché potrebbe avere effetti collaterali. Curare le micosi delle unghie. Le proprietà antibatteriche dell'aceto di mele sono l'ideale per combattere i funghi che possono comparire sulle unghie, e anche le possibili infezioni che si sviluppano insieme alle micosi. Per riuscirci, l'ideale è immergere i piedi in una tazza di aceto diluita in due di acqua e lasciarli per 15 minuti. L'aceto di mele aiuta a riequilibrare il pH della pelle e grazie a questa proprietà agisce anche come deodorante naturale. Il suo odore potrebbe risultarvi sgradevole, ma se lo diluite in acqua diventerà più delicato e meno fastidioso. L'unica cosa che dovete fare è mischiare un cucchiaio di aceto di mele in tre di acqua e applicare il liquido con un fiocco di cotone. L'unica cosa che dovete fare è un'aceto di mele.